Scontro tra due auto sulla 106 nel Crotonese, deceduto 23enne e due feriti. Un giovane di 23 anni, Luigi Scumaci di Botricello, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 Ionica nel territorio di Isola Caporizzuto. Scumaci era alla guida di una Fiat 600 che per causa in corso di accertamento si è scontrata con un Audi Q5 su cui viaggiavano alcuni turisti. La vettura condotta da Scumaci a causa dello scontro si è capovolta e il giovane sbalzato fuori dall'abitacolo è deceduto sul colpo. Due degli occupanti dell'Audi sono rimasti feriti e sono stati portati con ambulanze del 118 nell'ospedale di Crotone. Le loro condizioni comunque non sono gravi. Sul posto per i rilievi la polizia stradale insieme ai vigili del fuoco e al personale dell'ANAS.